I Paesi del Golfo stanno valutando la possibilità di inviare forze speciali in Siria e in Yemen dopo l'annuncio della formazione della coalizione islamica contro il terrorismo. Secondo il capo della diplomazia saudita Adil al-Jubeir, l'impiego dei militari rientrerebbe nel quadro degli sforzi condotti dagli Stati Uniti nella lotta allo Stato Islamico. Mosca, che dall'inizio dell'operazione in Siria ha distrutto oltre 1200 cisterne cariche del petrolio di Daesh, fa sapere, attraverso il portavoce del Kremlino Dmitry Peskov, che unire gli sforzi contro l'estremismo è positivo, ma alla Russia ci vorrà del tempo per analizzare gli obiettivi e la compagine dei partecipanti. E mentre Riyadh chiede a Kabul di aderire alla coalizione, il Pakistan manifesta sorpresa per la sua inclusione, avvenuta senza un esplicito consenso, così come già accaduto in occasione dell'inizio dell'offensiva saudita nello Yemen, che ha scatenato una guerra civile per la quale sono in corso da ieri negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite. Immediatamente l'Arabia Saudita ha violato gli cessati del fuoco, in vigore dal 15 al 21 dicembre. I missili sauditi lanciati ieri sulle città di Odaida e Saada hanno provocato la morte di 15 civili. Oggi tre navi militari saudite sono pronte ad attaccare lo Yemen occidentale. Il governo iracheno ha chiesto il ritiro completo e immediato delle truppe turche dal suo territorio e il rispetto della sovranità nazionale. L'Iraq, che denuncia i piani ambiziosi della Turchia sulle regioni settentrionali del suo territorio, in particolare sulla città di Mosul, ha invitato il Consiglio di sicurezza dell'ONU a una riunione speciale sul caso. E proprio a Mosul l'Italia invierà nelle prossime settimane 450 militari a protezione dei lavori di ristrutturazione della diga sul fiume Tigri, che saranno eseguiti da un'azienda del bel paese. A poche ore dall'annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ieri aveva parlato di un maggiore coinvolgimento del contingente italiano in Iraq, saranno così 1.200 i militari italiani presenti nel paese, dislocati a Mosul, Erbil e Baghdad. La tensione nell'aria dopo l'annuncio di Riyadh è alta e mentre Mosca conferma di lavorare a stretto contatto con l'Iraq nelle operazioni antidaesci in Siria, la deputata irachena Aliyah Nassif annuncia che il popolo e il governo iracheno rifiutano l'ingresso di forze straniere nel proprio territorio. L'alleanza militare musulmana creata dall'Arabia Saudita, scrive in un comunicato stampa alla deputata, farebbe parte del piano statunitense volto alla frammentazione dell'Iraq. Se Riyadh volesse davvero eliminare il terrorismo, allora dovrebbe iniziare a combattere l'estremismo nei suoi confini. Gli Stati Uniti non pretenderanno le immediate dimissioni del presidente siriano Bashar Assad. Si tratta di uno dei principali risultati dell'incontro di ieri a Mosca tra il segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry e il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso dell'incontro, entrambe le parti hanno ribadito la propria disponibilità a collaborare nella lotta contro Daesh e nella creazione di un elenco unico delle organizzazioni terroristiche. Attualmente, infatti, non sono rari i casi in cui Washington annovera tra i gruppi dell'opposizione organizzazioni che in Russia sono considerate terroristiche. Relativamente alla questione ucraina, John Kerry ha inaspettatamente dichiarato che i piani degli Stati Uniti non prevedono l'isolamento della Russia e che nonostante le divergenze di idee, i due paesi devono trovare dei punti d'accordo e cooperare in modo costruttivo. Grazie. Grazie. Grazie.